buongiorno stamattina mi trovo a pesca cinque miglia fuori guardate che cosa ho trovato ragazzi è impressionante mi sembrava una pinna di squalo di lontano ho detto ora la firmo ma guardate che c'è qua due cinghiali due cinghiali che se da dove vengono ragazzi guarda due cinghiali guardate se da dove vengono è normale sta cosa ora stanno andando in direzione marzamemi vendighieri su per giù la rotta che hanno è quella io li sto scortando verso terra vediamo saranno stanchissimi abbiamo provato di chiamare la capatineria vediamo se viene guardate guardate io non ho visto mai queste cose ora ve lo firmo da vicino uno si sono un po' di viste vediamo se riesco a farli tornare vicino non è normale io mai ho visto dei cinghiali qua poi qui non è zona di cinghiali da noi ma queste sono cinghiali che vengono dall'africa o l'hanno buttata da qualche nave guardate qua impressionante impressionante da qui è tutto non è tutto non è tutto